Una finale rapidissima, poco più di un'ora di gioco, una prova di forza notevole di Manuel Gnard che in semifinale aveva già eliminato con facilità l'italiano Alessandro Giannessi. Il gigante francese, 26 anni, ha conquistato con merito il challenger numero 2 di Roseto, un successo che gli ha consentito di scalare il ranking mondiale raggiungendo la posizione numero 161, la sua miglior classifica di sempre. Di fronte il taiwanese Tseng che probabilmente ha pagato la maratona della semifinale vinta dopo ben tre ore di gioco contro il kazako Skatov. 6-1-6-2 il risultato della finalissima a dimostrazione di un match a senso unico. La vittoria nel singolare è stata la ciliegina sulla torta di una settimana perfetta per il francese che ha conquistato anche il trofeo di doppio in coppia con l'Ital argentino Franco Agamemnon. La sua soddisfazione nel corso delle premiazioni al microfono di Enrico Giancarli. Un ringraziamento a tutti quanti, dal direttore del torneo, a tutti i ragazzi e chiaramente al pubblico di Roseto. Ho sottolineato che è stata la settimana più bella per lui perché oltre a questo singolare ha vinto anche il torneo di doppio. Roseto sarà per te sicuramente sempre un bel ricordo. Grazie a tutti.